bentornati amici di radio news 24 nr con le nostre interviste storie io sono lino taravella vostro speaker di oggi qui con noi abbiamo daniele leva di motocicletta team benvenuto daniele grazie buongiorno a tutti ciao bene allora prima di partire con la nostra chiacchierata lanciamo subito un hashtag e questo per condividere meglio il video e permettere di raggiungerti più facilmente sui tuoi canali social aumentare le tue visualizzazioni hashtag motocicletta puglia e nel primo e questo qui appunto andatelo a cercare così poi potrete vedere anche il video dell'intervista allora daniele di cosa ti occupi esattamente di cosa si occupa il tuo team allora noi ci occupiamo innanzitutto di viaggi nel territorio di viaggi in italia di viaggi all'estero e ci siamo specializzati in guida sicura sia su strada che in fuoristrada ottimo ok spiegaci un po come come funziona il tuo lavoro allora semplicemente nasce ovviamente da una passione quindi la motocicletta e si evolve scoprendo che con la moto sia uno stato di libertà secondo me è unico possiamo fare veramente tutto ciò che vogliamo andare a vedere qualsiasi cosa abbiamo una libertà totale con la moto e ho iniziato a organizzare viaggi nel territorio per poi spandermi in italia e divertirci anche all'estero perché c'è tanto da vedere sia in italia che all'estero poi c'è stata l'esigenza tra virgolette sempre mossa dalla passione della guida sicura perché quando guidiamo la moto ma in realtà quando guidiamo qualsiasi mezzo è molto facile iniziare a guidare e diventa più complicato essere veramente padroni del proprio mezzo e delle circostanze che insomma si incontrano durante la strada o il fuoristrada nel nostro caso anche e quindi nascono così corsi di guida sicura e la cosa bella è il pubblico che abbiamo chiamiamolo pubblico e sono di tutte le età dal ragazzino mandato magari dal genitore che vuole fare iniziare il figlio in sicurezza a veri e propri centauri mi sono capitati centauri con veramente tanti chilometri alle spalle dicendomi guarda daniele io ho tanti chilometri però ci sono alcuni punti che voglio approfondire e quindi abbiamo iniziato anche concorsi veramente ai centauri insomma è una cosa bella da 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 vedere che la guida sicura è viene notata anche da chi magari ha tanti chilometri alle spalle viene insomma sì ma proprio ci sono gli appassionati anche che si uniscono in gruppi che fanno i giri con le motociclette esatto esatto noi facciamo proprio dei gruppi piccoli medi grandi poi in base all'evento che creiamo sia per quanto riguarda i viaggi che per quanto riguarda i corsi facciamo dei corsi individuali per la persona che preferisce no avere l'attenzione tutta per sé essere magari più seguito e facciamo anche dei corsi di gruppo gruppi sempre non molto grandi in maniera tale da riuscire a seguire tutti e ad aiutare insomma tutti quanti e proseguire la strada certo anche magari in base all'età giustamente ci si divide in base all'età sì sì ci si divide un pochino ovviamente più che all'età magari anche a livello di esperienza no si parte dal neofita fino arrivare a livelli più avanzati quindi dividiamo se si parla di gruppi o gruppetti io non faccio gruppi faccio gruppetti e quindi facciamo fasce di esperienza diverse più che di età ecco ad esempio cosa consiglieresti a una persona come me che non è mai salita sulla motocicletta a una persona che non è mai salita sulla motocicletta innanzitutto di provare in tutta sicurezza quindi magari facendosi aiutare da qualcuno di esperto tipo me per esempio e iniziare piano piano senza avere paura magari mettersi in una zona di sicurezza senza traffico iniziare perché la motocicletta è un mondo da scoprire che non tutti conoscono tutto quello che si può fare vedere con la moto è veramente un mondo da scoprire ma certo e poi voi ovviamente glielo fate scoprire e fate altri viaggi organizzati facciamo dei viaggi organizzati e creiamo dei gruppetti e partiamo facciamo la formula vacanza per chi vuole venire nel salento a visitarlo in moto ovviamente come come tutta l'italia il salento è stupendo da vedere in moto e e poi usciamo anche fuori dal nostro territorio andiamo in italia andiamo all'estero ovviamente anche con le moto perché è proprio l'esperienza del viaggio non tanto la destinazione ma viaggiare con la moto entri proprio in un come si può dire in un'atmosfera che ti trasferisce forse solo la moto in questo caso è diverso che stare chiusi in macchina insomma ne sono sicuro e sono sicuro che devi venire a provare se non hai mai provato di finire a provare ma assolutamente è una bella idea poi soprattutto nelle vostre zone deve essere fantastico è molto bello sia molto bello e vedo che condividete anche dei video giusto su youtube beh sì ovviamente il ricordo del del video è importante facciamo dei video che poi vengono pubblicati e è bello riguardarli perché ogni viaggio in moto e c'è sempre qualche cosa da raccontare ma anche la piccola esperienza in moto della giornata e di giro c'è sempre qualche cosa da raccontare ed è sempre bello magari avere un ricordo video a portata di tutti sui social ecco e questo con il motocicletta team si può fare assolutamente ottimo allora lanciare un altro hashtag guida sicura puglia così chi appunto cerca qualche corso di guida sicura nella vostra regione vi può trovare più facilmente allora ricordiamo i contatti social di daniele leva del suo team su facebook lo potete trovare come motocicletta team dove sicuramente il nostro daniele condividerà il video dell'intervista lo potete trovare anche su instagram su motocicletta punto team e su youtube motocicletta team ecco che così vi troveranno anche facilmente con queste con queste modalità vuoi ricordarci anche la vostra sede dove vi trovate esattamente noi siamo proprio a lecce proprio nel salento a lecce e ci possono contattare ci troviamo abbiamo una sede nella zona stadio è facilissimo quindi insomma siamo vicino allo stadio esatto sì 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 perfetto avete anche un sito web dove possono vedere tutti i vostri contatti si trovano sempre motocicletta team puntocom fantastico allora daniele è stato un piacere averti qui con noi spero di risentire grazie per avermi invitato grazie a voi è stato un piacere mio alla prossima buon proseguimento con la vostra attività grazie come diciamo noi buona strada assolutamente grazie perfetto amici di radio news 24 io vi ringrazio di essere stati qui con noi e mi raccomando non perdetevi le prossime interviste grazie a tutti